la prossima Maurizio Maurizio Minisso un rossissimo applaudo Maurizio Minisso la prossima cazzone è per te la prossima cazzone è per me un rossissimo applaudo Maurizio Minisso vai 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 un rossissimo applaudo un rossissimo applaudo Maurizio Min больш e isa mi FEMER! 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 Uppai! Tu non è questo? Vai da buona 20kb! Vai da 120kb! Vai da 120kb! Vai da buona l'aluncio! Vai da 120kb! Basta! Vai da 120kb! FEMER! FEMER! Surgita! Torni! Vieni! Surgita la vita per l'ingresso! Vieni! Torni! Grazie ragazzi, un grossissimo applauso a Benisso, che ha qualcosa da dirsi, Occio. Ho il telefono qua, l'onso. Ah sì, l'onso, ma... Grazie ragazzi, un grossissimo applauso a Maurizio Benisso, grazie, grazie, grazie Benisso. Ragazzi avete assistito a una delle cose, le ultime, cioè, è possibile, è possibile. Comunque non possiamo andare avanti così, non possiamo andare a casa così. Facciamo un affaganello e poi facciamo qualcosa.